i cinque colori di tendenza per questo autunno ciao ragazzi e ciao ragazzi bentornati in un nuovo video finalmente si ricomincia dico finalmente anche se molte di voi mi hanno scritto nei messaggi di instagram che erano molto tristi di ritornare in città e di terminare le ferie ma per me settembre rappresenta un grande mese di inizio una sorta di inizio dell'anno meglio ancora di gennaio e quindi partiamo con una prospettiva verso il futuro quali sono i colori di tendenza per questa stagione meravigliosa in arrivo l'autunno la stagione più romantica forse a tratti anche un pochino malinconica ma questa la sua bellezza ovviamente come immaginerete e come ormai tutte ben sappiamo non si tratterà di colori pastello perché quelli appartengono più alla stagione primaverile si andrà verso dei colori più intensi e in alcuni casi anche più accesi prima di cominciare come sempre mostratemi il vostro affetto con un bel pollice in su così io potrò anche capire se questo argomento vi interessa e per tutte le nuove arrivate vi ringrazio di cuore gli iscritti stanno salendo incredibilmente sono molto emozionata nel notare che il mio canale vi piaccia e quindi per chi non fosse ancora iscritto mi raccomando iscrivetevi così non perderete i video futuri il primo colore di tendenza per questa stagione in arrivo che mi ha colpito molto e che sicuramente io indosserò è una variante del rosso il color magenta il rosso è un colore primario meraviglioso e come spesso dico non è per tutti il rosso è un colore molto intenso che si fa notare alcune personalità si sentono a disagio a indossarlo e quindi prima di guardare le tendenze io suggerisco di ascoltare il proprio istinto mi va davvero di indossare quel colore beh se vi va indossatelo per questa stagione non solo il magenta ovviamente anche il color vinaccia quindi tutte quelle tonalità di rosso un po più scure il bordeaux che ha un colore estremamente elegante di cui parlo spesso sul canale un colore molto femminile che sta bene sia alle morettine che alle bionde ovviamente se non ci sentiamo a nostro agio a indossare un look monocolore rosso possiamo dare qualche accento al nostro look per renderlo particolare interessante ovviamente ragazze il secondo colore come poteva non essere il marrone in tutte le sue varianti ma soprattutto il color cammello in questo caso come immaginerete max mara docet e sì perché sono i colori dei cappotti che regnano sovrani un colore estremamente chic e sofisticato che abbiamo già visto negli anni scorsi e riconfermato anche per quest'inverno certo bisogna ammettere che alcune carnagioni stanno meglio rispetto ad altre ma possiamo davvero spaziare in questo caso perché ci sono diverse varianti di questo colore alcune che tendono un po più al color biscotto quindi possiamo davvero scegliere quella che è la tonalità di marrone che più si confà sia la nostra carnagione che a quelli che sono proprio i nostri gusti ma soprattutto al nostro armadio il verde sta prendendo il sopravvento già dallo scorso anno l'abbiamo visto regnare sovrano nei nostri armadi ma questo inverno questo autunno nello specifico ancora di più diverse tonalità di verde quindi un verde più scuro più intenso oppure anche un bel verde smeraldo anche lì scegliete un po' cosa è la vostra carnagione se avete una carnagione con sottotono freddo consiglio un punto di verde un po' più freddo come ad esempio può essere il verde smeraldo ma dipende anche lì da quelli che sono i vostri gusti da ciò che avete già nel vostro guardaroba dall'effetto più o meno sofisticato che volete dare e quindi anche qui si può davvero spaziare e incredibile la combinazione di verde che io ho visto verde combinato spesso al blu all'azzurro ma verde abbinato anche al lilla ecco bisogna saperli abbinare perché è un attimo a cadere nel pacchiano e a sbagliare soprattutto combinazione di tonalità ma verde abbinato anche al bianco ecco questo è un abbinamento davvero nuovo e secondo me molto interessante il quarto colore che regna sovrano per questo autunno riconfermato direi e per eccellenza il colore dell'eleganza il blu anche in questo caso il blu nelle sue varianti più o meno chiare blu notte o blu nevi come lo vogliamo chiamare un cappotto blu non può assolutamente mancare nel nostro armadio così come uno spolverino un po più leggero un trench blu perché no il blu si adatta benissimo a tante occasioni sia per il giorno che per la sera anche questo è un colore che sta molto bene con tante carnagioni e tanti colori di capelli alcune persone non lo amano moltissimo perché pensano che il blu dia troppa serietà seriosità vada un po a invecchiare ma secondo me non è così e dulcis in fondo ragazze arriviamo all'ultimo colore una sorpresa perché di solito in autunno i colori chiari colori accesi non si usano il giallo soprattutto nei cappotti ho visto tanti cappotti color giallo ocra o anche altre varianti più o meno scure ho visto anche che va molto anche il color oro che è uno dei miei colori preferiti perché se anche per la casa secondo me loro da subito un effetto di benessere di ricchezza quindi è un po un balsamo per la mente il color oro ma l'ho visto soprattutto negli abiti eleganti negli abiti lunghi da sera ovviamente non potrei mai immaginare un cappotto oro e quindi teniamo in considerazione questo giallo per questa stagione in arrivo anche il giallo forse più del rosso è un colore impegnativo certo ci sono talmente tante tonalità che anche lì possiamo davvero abbinarlo a tutte le carnagioni in base alla nuance ma non tutti si sentono a loro agio indossando il giallo non perché è un colore di tendenza noi dobbiamo indossarlo ovviamente e quindi il mio consiglio finale per quanto riguarda i colori è di scegliere sempre i colori sì che ci valorizzano che ci stanno bene ma ancor di più scegliere i colori che ci attirano che ci fanno sentire bene spero che questo piccolo approfondimento sulle tendenze dei colori vi sia piaciuto se è così mi raccomando condividete il video e lasciate un like nei prossimi video arriveranno altre tendenze ovviamente per le stagioni in arrivo e soprattutto arriverà un video molto speciale tra circa una decina di giorni è iniziato il conto alla rovescia ragazze l'avrete visto sul mio profilo instagram per chi non l'ha ancora visto vi invito a seguirmi lì mi trovate col nome elena t ma è anche su youtube il conto alla rovescia nella sezione community ho messo una bella foto lo troverete anche su facebook quindi fra dieci giorni ci sarà un video rivelazione molto importante mi raccomando non perdetelo a questo punto io vi ringrazio come sempre ragazze per la visione per tutti i vostri meravigliosi commenti che io leggo a volte non riesco a mettere i cuori a tutte perché o la connessione è scarsa o non ho proprio tempo di rispondere a tutte ma io ci tengo a dire che leggo tutti i vostri commenti e mi riempiono spesso davvero di gioia e quindi vi ringrazio a questo punto io vi rimando al prossimo video sabato ciao 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 ciao